Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Roberto Di Giacomo. In A1 in direzione Firenze coda tratti tra Erezio e Incisareggello, Petraio e Calenzano. Verso Bologna si registrano incolonamenti per traffico sostenuto tra Firenze e Scandicci e Bivio varianti di Valico. Ricordiamo che si tratta di lavori per il miglioramento della sicurezza tra Montelupo e Ginestra, percorsi alternativi sull'SP12 o per viaggi più lunghi sull'autostrada 11. La statale 64 Porrettana è chiusa tra Pavana e Ponte della Venturina a causa di una frana. Prima di salutarci chiudiamo con il traffico ferroviario. Sulla linea Bologna-Prato fino a lunedì 2 settembre, per lavori di potenziamento infrastrutturale, il traffico sarà sospeso tra Prato e Pianoro. Moersi in Toscana Info in servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!